Bene ragazzi sono Gianberto di questo nuovo video, quest'oggi sono qui per presentarvi una super nuova arma, secondo me prenderà il posto del DMR che ormai è stato un pochino depotenziato, sono sicuro vi piacerà al 100% perchè la sto utilizzando negli ultimi giorni e mi ci sto trovando tantissimo ma tantissimo bene, infatti ragazzi le clip che vedrete all'interno del video sono state fatte assieme a voi in live durante un follower day che appunto faccio il venerdì, ci saranno ben due win e alcune clip di giocate veramente belle. Perdonatemi se in questi giorni non ho portato tanti i miei gameplay, queste ragazzi sono le lobby che trovo tutte Diamond, non so per quale motivo, se ho subito segnalazioni, non lo so, magari Shadowban, non lo so veramente, non ne ho la più pallida idea, ciò però di cui sono sicuro è che questo video vi piacerà e vi piacerà soprattutto la classe. Non voglio farvi spoiler, non voglio dirvi nulla, la classe la trovate all'interno del video, trovate tutto quanto, quello che vi serve, vi lascio alle clip e alle belle partite, lasciate un like, un commentino e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, qua c'è tutto e bello. E' uno dietro di noi, sai che è buggato quello di noi, hanno qualcosa secondo me questi qua, laser hanno troppo, la terra è uno? Vado di qua, è crackato questo qua fuori raga, fuori dalla casa, è crackato? Ok c'è, c'è un cittone comunque Qua? Davvero? 47 metri, quadritto si Mi di 3 metri cazzo, sono in tantissimo Ecco che Oh c'ho forzato, forzato, forzato Fetta, 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 fetta 3, 1 Eccole la sua porta, gente Letta un altro Bella Ho fermato il tuo Bella 1 dentro 4 tiro mancano? Fatto 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 Secondo me ci sono altri 34 metri qua dietro Sono sopra qua secondo me Sono saliti sopra Ancora è sopra Fatto 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 No raga raga aiuto aiuto Qualcosa Cazzo si entra non sono morto raga Fatto uno È fuori Crackato a terra Oh raga dietro dietro di me Da dietro dietro Non so non so sto scappando Ma se vuoi Eccolo c'è uno qua Fatto terra Ok qua raga Qua dritti 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 Occhio al secco al secco al secco al secco Crackato crackato A terra ok fatto Ah si 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 sono dentro Qua fuori qua fuori Ok fatto Crackato uno Crackati Questi qua dietro Raga stanno arrivando da qua Qua c'è un altro Arrivati qua Qua c'è un altro Qua c'è un altro Qua c'è un altro C'è anche un camion C'è anche un camion Negativo Uno fatto Occhio al camion A sinistra No a me non fatto 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 a terra Ok eccolo Crackato a terra Anche un altro sotto Anche un altro sotto A terra Bravo Ecco Bravo Fatto 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 Vai vai andate Dopo correte qua raga Che ho paura Che ci sia qualcuno Assisto uccisione Uno ce l'ha ucciso Ecco Crackato uno A terra Occhio 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 Dietro 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 Ce l'ho qua Fatto Uno fatto qua davanti Grandi Bella Grandi Grandi Sì Grandi Raga Bella Due 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 Qua dentro Anche un'altra Uno fatto Uno fatto Fatti Occhio a terra 1 arriva giù no raga mi hanno fatto esplodere la macchina che culo no 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 non ce l'ho qua si seguono fino a data eh che è nata che è nata è sceso è dietro dietro di me 48 metri a sinistra l'ho messo l'ho messo l'ho messo ok fatto 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 bella bravo vieni con me vieni con me aspetta come faccio a venire guabin nemico in volo mi fanno mi fanno mi fanno è normale che mi fanno puoi venirmi a curare e siamo sei un attimo un attimo un attimo a me in volare cazzo ma si pensi di pusharmi così bravo no 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 qua a destra qua a destra dietro la roccia mi ha ucciso voglio sapere chi mi ha ucciso voglio sapere chi mi ha ucciso voglio sapere chi mi ha ucciso non ci credo non ci credo eccolo è sotto la no è son morto bro ma perchè mi hai lasciato la dove cazzo vado bro ora posso giudare la tua marcia cazzo cazzo vado cazzo cazzo vado cazzo vado ma dove sarei questi scuberti torna, torna nel camion torna nel camion guido io guido io granata lanciata a me in volare nooo Grazie a tutti